Per poter partecipare ai corsi di nuoto cosa bisogna fare? Sono gratuiti, si paga oppure c'è dell'altro? Scherzi a parte, in via Canarozzo com'è che potete vivere in queste condizioni al 2015? Io battuta permettendo, dico i corsi di nuoto sono sicuramente gratuiti, grazie anche alla negligenza della nostra amministrazione. Noi più di dieci anni che viviamo in questa situazione di totale abbandono, siamo ormai abituati a vivere in estate con la polvere, in inverno con il fanco. In questi giorni il signor sindaco ha ringraziato qualche cittadino che ha messo in evidenza qualche problema della nostra città. Io non voglio essere ringraziato e chiedo solo al signor sindaco e all'amministrazione al ramo e a chi di competenza se è normale che nel 2015 gli abitanti in questa zona vivano in questo totale degrado, di totale abbandono. In più chiedo che in questi giorni sono stati effettuati dei lavori, penso due mesi fa hanno iniziato i lavori e li hanno lasciati così incombiuti con delle grosse buche che creano sicuramente danni eventualmente ai bambini che giocano in questa zona. Io chiedo ancora una volta al signor sindaco di darci una risposta concreta, seria a questi cittadini che ne hanno totalmente diritto di vivere una situazione civile e decorosa. Ma non sono solo le strade perché a quanto pare mancano anche altre opere di urbanizzazione, sistema fognario, sistema idrico, illuminazione. Mancano, come ha detto lei, l'acqua in questa zona, mancano le fogne, mancano anche i marciapiedi, nonostante gli abitanti abbiano già pagato le opere di urbanizzazione. Troppo noi che abitiamo qua in questa zona siamo, come si suol dire, handicappati, nel senso che da molto tempo ci devono fare le strade, invece ancora siamo ridotti così. Potete vedere voi stessi dalle immagini che vi fornisce la Teleradio Canicattì. E grazie anche a Pino Barbara che ha fatto questa intervista così tutti i canicattinesi, ma soprattutto il comune vede. E il sindaco che è un amico mio, anzi lo saluto, però ti dico Vincenzo cerca di fare qualcosa perché qua la situazione è molto brutta.